Le cose stanno andando nella giusta direzione, siamo in dirittura di arrivo, sono onesto no, no perché dopo domani a Parigi durante l'assemblea dei comitati olimpici europei ci sarà una relazione che faremo sottoscritto insieme ad Andrea Varnier sullo stato dell'arte e dei lavori, mancano mille giorni dopo domani, quindi insomma mille giorni, sono tanti, non sono neanche troppi considerando che la barca è una giusta direzione, ma insomma abbiamo tante cose da fare.